io non vi ho fatto annunciare niente eh beh sì, tu vieni qua per favore che sei troppo vicino a lei dai brava no, stati qui qui brava in quel sangue l'ho lasciato apposta perché l'ho dico quando arriva e la può fregnare e prende sopra l'ho provato a deviare eh sì ha fatto il curvone c'è stato c'è stato un momento in cui il naso si è visto dribla in realtà tecnicamente c'è qualcosa a sinistra che le interessa tanto a destra c'è l'acqua ma è tornata è il vento il vento che ti scopla vero? ho capito, ora ho capito mi piace ho capito ok vedo ho capito che questo si è Ok, chiama. Ok, adesso te ne vai dietro. Per esempio, facciamo questa prova. Vatti a mettere dietro l'olivo che lo riassino. Giorgio, quando hai un cane che non si fa prendere dal collare, conviene lavorare su pettorino, no? Volendo, se no lavoro così. Tanto mi serve solo per il richiamo. Non mi serve solo per il richiamo. Chiama! 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 Grazie.